Grazie di cuore, va che ci sono dei posti a sedere qua davanti, non lasciate dei posti vuoti, venite, venite avanti Lascia passare delle persone per favore, uno, due, tre, ci sono altri posti, perché fuori c'è una marea di gente, mi spiace lasciare la gente fuori, alzi la mano che ha un posto libero vicino Uno là, uno là, uno lì Se voi lì in fondo, qualcuno ha voglia di stare seduto mezz'oretta? Venite avanti, mettetevi qua davanti, avanti Se riusciamo a far entrare qualcuno che è fuori al freddo, sono contento, venite avanti, da là, avanti qua sotto Avanti Se qualcuno ha il menisco buono, non come Suso Mi è chiaro, potete sedervi, mi è chiaro Innanzitutto, grazie per l'accoglienza, è vero che la voce mi è rimasta in gran parte lungo la via Emilia Ma ragazzi, non so se ve ne rendete conto O adesso O mai più per i prossimi cinquant'anni O adesso O se non cambiamo le cose adesso Non servirà a fare la battaglia per i punti nascita Perché se andiamo avanti così I bambini non nascono più E quindi O adesso C'è da fare però Oggi poi eravamo in una provincia come quella di Reggio Oggi si è stati a Brescello, a Gualtieri, a Guastalla, a Reggio, a Novellara Dove ci sono state le elezioni del sindaco Questa primavera E la sinistra ha rivinto quasi col 60% E c'era una marea di gente E la cosa bella C'erano agricoltori C'erano commercianti C'erano medici Ma c'erano una marea di ragazzi Ci hanno fatto due palle così con le sardine Sono scomparsi i poveretti E sono venute fuori ragazzi e ragazzi normali Non pesci Donne e uomini Studentesse e studenti E poi l'ospite come il pesce dopo tre giorni puzza E quindi noi preferiamo avere buoni profumi E' bella Vedo una marea di gente Innanzitutto vi ringrazio per essere qua Ringrazio soprattutto gli Juventini Perché c'è Roma Juve E quindi è un sacrificio Alzino la mano gli Juventini Me ne vado Che non me l'avete detto E' un paese di Juventini L'avete portato Vabbè tranquilli dai Tanto vince la Roma Comunque detto questo Detto questo Scherziamo sul calcio perché La partita fondamentale da vincere E' quella di domenica 26 gennaio Poi sul calcio si può Si può sorridere Qua c'è da rimettere Soprattutto c'è da rimettere al centro il lavoro Lavoro, 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 lavoro Oggi uno si ha letto Non so se avete letto i giornali Ci sono i geni al governo Che hanno presentato una proposta di legge Per rialzare l'età pensionabile Noi abbiamo faticato per tirarla giù E questi in qualche mese Hanno già presentato una proposta di legge Per ritirarla su Per cancellare quota 100 E arrivare quota 101, 102, 103 E tornare alla legge Fornero Se proveranno a tornare alla legge Fornero E gli amici di Bonacini Sono gli amici della legge Fornero Faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento Come fanno altri popoli europei Perché col lavoro e con la vita dei lavoratori Non si scherza Quindi E burocrazia Io ho trovato soprattutto in provincia di Parma Una marea di imprenditori Che mi hanno detto Salvini andate in regione Perché qua mi stanno tirando pazzo da due anni Da tre anni Da quattro anni Per ampliare il capannone Per la variante Per sistemare la stalla Per sistemare l'azienda agricola Ormai Ci siamo vittime O della burocrazia O dell'ideologia Che non è ambientalista Perché c'è qualcuno che a parole dice Di difendere l'ambiente Ed è il primo nemico dell'ambiente Lascia che in montagna decida la gente di montagna Come pulire i fiumi I torrenti Come sistemare gli argini Come tagliare gli alberi E i cinghiali E le nutrie E che palle Ero in una cantina Con 700 soci Nel Reggiano Settimana questa E si lamentavano Perché appunto A furia Delle normative regionali Non si può fare niente E non pulire il torrente E non togliare l'alberello E c'è il problema C'era uno C'era questo agricoltore Imbufalito Ma Salvini Ma ti pare Che con tutti i problemi Che abbiamo Per far andare avanti Le aziende Per difendere il nostro territorio C'è gente a sinistra Che manda avanti Le proposte Per tutelare le nutrie Con i microchip Mettiamo i microchip Alle nutrie Tra un po' Anche i guinzaglietti Andiamo in giro Per Bolgotaro Con la nutria Nel giro Ma basta con questi cani Andiamo in giro Con la nutria O col cinghiale Ma questo non è Difendere l'ambiente Questi sono i famosi Ambientalisti Da salotto Che non capiscono Un accidente Di ambiente E di montagna Lascia che la gente Lavori Lascia che la gente Lavori In microchip Alla nutria E sulla sanità Vabbè voi qua Qualcosina Ne sapete Sulle infrastrutture Anche qua La provincia di Parma È massacrata Io ho incontrato Gli imprenditori I commercianti Gli artigiani Aspettano Anzi Aspettate Infrastrutture Da una vita La Tireno Brennero C'è un sistema Di porti Di autostrade Di ferrovie Da rivedere Completamente C'è una burocrazia Regionale Che sta massacrando Le attività Non solo in montagna Ma anche In pianura Quindi Ci sono da aprire Le porte e finestre E la differenza La fa domenica prossima Chi vota Io vi chiedo In questi 14 giorni Portare in giro Tanto non starete Solo qua A Borgotaro In fabbrica In azienda Scuola In negozio All'autogrill In ospedale Chi sta a casa Domenica 26 gennaio Chi non sceglie E lascia che siano altri A scegliere al suo posto È complice del vecchio E poi non viene al bar A lamentarsi il 27 gennaio A Borgo Se le cose non cambiano Chi sta a casa È complice del vecchio Chi non sceglie È questo Se portate fuori Da questo cinema L'entusiasmo di questa sera Abbiamo vinto Io lo chiedo Quando vado nelle piazze Ormai non faccio più comizi Alla vecchia Alla vecchia maniera Si parla Si capisce Prima l'ho chiesto C'erano centinaia di persone A Novellara Ho chiesto Alzate la Alzi la mano Chi stasera È per la sua prima volta Nella vita Un comizio di partito Quasi tutti Quanti di voi Sono stati a un comizio Quanti hanno La prima volta Un comizio di partito Stasera Sulla mano Eh io vi dico grazie Perché per me È il ringraziamento Più bello Aver dato passione Motivazione Speranza Speranza Non ci sono militanti Di partito Poveretto Bonacini Ormai deve organizzare I pullman Per far vedere Un po' di gente Ho visto Stamattina La foto Della folla Che l'ha ascoltato A Cesenatico Andava bene Per la briscola Chiamata Nel senso che Era lì Potevano fare due tavoli Di burraco Forse E se la giocavano Ma va bene Perché E il bello È che Nel Reggiano Ma anche in provincia Di Parma Settimana scorsa Io ho trovato E sto trovando Una marea di gente Anche prima In piazza Una signora Con i suoi figli Un anziano Un agricoltore De 80 anni Due operai Mi hanno detto Io Salvini Ti devo dire una roba Sottovoce Io ho votato Per una vita A sinistra Perché Prima mi hanno detto Il mio babbo Era partigiano Il mio babbo Ha combattuto Ha rischiato la vita Per la libertà Della mia terra E se vedesse oggi Quelli con la bandiera rossa Che cantano Bella ciao Con il Rolex Al polso Si incazzerebbe Come un bufalo Si arrabbierebbe A vedere Quei quattro figli Di papà A cercare Fascisti Fascisti Cercano fascisti Peggio che Cerchino funghi Qua c'è gente Che cerca funghi La cercano Fascisti Solo che voi I funghi Li trovate E quelli là I fascisti Non li trovano Ma perché? Perché non ci sono Qua ci sono Italiani Orgogliosi Di essere italiani Non ci sono Razzisti Nazisti Squadristi Fascisti Egoisti Ale Quindi È questo Io ho bisogno Che voi In questi Quattordici giorni Facciate quello Che Non posso fare io Siate la nostra voce E si sente Che la sto lasciando Domani abbiamo Tutta la provincia Di Parma Dopodomani Tutta la provincia Di Piacenza Tra tre giorni La provincia Di Bologna No che fenomeno Se non mi ricoverano Però Bologna Poi il sedici Passo A Roma Per un incontro Che abbiamo organizzato Vengono persone Dal Gerusalemme Dal Canada Dalla Gran Bretagna Presentiamo L'iniziativa Della Lega Contro L'antisemitismo Che oggi Significa Odiare Israele E chi odia Israele Odia la libertà Odia la democrazia E spesso e volentieri Sta a sinistra Sta a sinistra O sta in moschea Per dircela tutta Poi il sedici Sera Aereo Si va alla Mezzia Terme Il diciassette Reggio Vibo Valencia Perché il ventiseo Io non credo Alle coincidenze C'è la possibilità Di liberare Due splendide terre E due splendide Reggio Reggio Emilia E Reggio Calabria La lotta All'andrangheta Alla mafia All'oppressione Alle minacce Al brutto E poi si torna Qua vi aspetto Sabato 18 Per chi avrà Due ore libere Abbiamo scelto Una piazza simbolica Per fare la pre-chiusura Della campagna elettorale Perché rappresenta Nel mondo L'Emilia Che sogna Che corre Che inventa Che vince Che produce Che da lavoro Ci troviamo In una piazza Che i compagni Pensano che sia Cosa loro Invece è cosa di tutti È casa di tutti Vi aspetto in piazza A Maranello Sabato prossimo Perché è un rosso Che ci piace È l'unico rosso Che ci piace Quello del cavallino Quello che vola E poi Poi il 19 Ormai sono sostanzialmente Un google maps Dell'Emilia Romagna C'ho più o meno La cartina Il 19 A Rimini C'è la fiera del gelato Poi ancora In Romagna Splendida terra Anche la Romagna Ieri è stata una bellissima giornata Perché mi ha regalato Quella terra Due emozioni particolari La prima Stare a pranzo Insieme a mille ragazzi Che a San Patrignano Stanno combattendo Per liberarsi Dalla groga E dagli stupefacenti Alla faccia Di qualche politico Criminale Che vorrebbe legalizzarla E distribuirla A ogni angolo di strada La droga E la droga uccide E poi Mi ha aperto Le porte Del suo museo Di casa sua E del suo cuore Il papà Di Marco Simoncelli Per il museo Di Simoncelli Che è un altro simbolo Della genialità Delle vostre popolazioni Emiliani e romagnoli Cioè Avete una marcia in più C'è poco da fare Ve lo dico da milanese Avete Ci state fregando Anche la nebbia Ho visto venendo qua Quindi Ci rimane niente a noi Ci rimane giusto Ibrahimo C'è poco altro Comunque In bocca al lupo Perché Siete Tantissimi Infatti Quando ho visto la gente fuori Ho detto Ho sbagliato Magari danno tolo tolo Di zalone C'è la gente in coda Perché hanno Finito Il biglietto Poi magari Facciamo dopo Tolo tolo Però Se tutti voi Che siete Io sono convinto Che voi A scuola In fabbrica In negozio Avete qualcuno Che è indeciso Noi siamo avanti E ieri mi sono emozionato Quando la mattina Ho visto in edicola Il resto del Carlino Come cambiano i tempi Ieri il titolo In prima pagina Del resto del Carlino Era una roba Che fino a qualche anno fa Era Da matti Lucia Lucia Borgonzoni In testa Lega Primo partito In Emilia Romagna È una roba Però ragazzi Occhio Perché di là Quando sanno Che stanno per perdere Il portafoglio Le provano tutte E quindi C'è bisogno Che qua Non ce ne sia Una Di persona Che sta a casa Una È vero che siamo In vantaggio Però è vero Che mancano 14 giorni E la storia Di questo paese Ci insegna Che a volte I compagni I voti Li trovano Anche dove non ci sono E quindi E quindi Vi chiedo Alla vecchia maniera Casa per casa Paese per paese Noi stiamo facendo Una campagna elettorale Povera Vecchia maniera Io faccio i comizi Nei mercati Sulle seggiole di plastica Sui tavolini Sulle panchine Sotto gli alberi Ma va bene così E quel poveretto I bonaccini Che va su facebook A chiedere soldi Ma come si fa? Cioè in un momento Di crisi economica Uno va su facebook A chiedere i soldi Va bene Noi In bocca al lù Se ciascuno di voi Non vi chiedo miracoli Però Siete una marea Qua siete veramente Centinaia e centinaia Mancano 14 giorni Io vi chiedo Di darvi l'obiettivo Come in azienda O come al militare Quando ti attribuivano Un compito Uno al giorno Un cuore da scaldare Ogni giorno Da qui al 26 Di un cittadino Della montagna O della città Un emiliano Incazzato Depresso Deluso Che dice Li ho provati tutti Sapete quanti ne trovo Io anche Che avevano votato I 5 stelle Che ormai I poveretti Sono Sono disperati Perché sono entrati In politica Per mandare a casa Il PD E si ritrovano Al governo Col PD E quindi Vanno capiti Se ciascuno di voi Nelle prossime serate Prima di chiudere gli occhi Si domanda Per 30 secondi Prima di dare un bacio Alla moglie Al marito Ai figli Io oggi Ho portato Il mio mattoncino Alla casa emiliana Io oggi Ho parlato Col mio medico Con mia suocera Col mio collega Di lavoro Col mio compagno Di scuola Con la mia prof E L'ho Svegliata E l'ho decisa A partecipare A questo grande Evento storico Se ciascuno di voi Fa con una persona Al giorno Per i 14 giorni Per le centinaie Che siete Abbiamo vinto E sarà merito vostro Non sarà merito mio Sarà merito vostro Non è Salvini Che salva l'Emilia Io mi metto A disposizione Con i miei limiti Con i miei difetti Per cercare di portare Un messaggio di futuro Di cambiamento La cosa bella È che Le nostre piazze Sono piene di proposte Di sorrisi Di idee Prima Adesso siamo Al chiuso Ma prima A Novellara Eravamo all'aperto In piazza Con un freddo becco E c'era una marea Di mamme Di papà Con i bambini Piccoli Nei passeggini Quindi vuol dire Che c'è un seme Di speranza Di futuro E si vedono Le piazze diverse Perché poi ogni tanto C'è qualcuno Che contesta Ieri mattina A Imola C'era una marea Di gente E poi nell'angoletto Là ce n'erano Una ventina Incazzati come vipere Brutti Tutti Rancorosi E urlavano Avevano un progetto politico Molto Strutturato Vaffanculo Cioè c'era un O era vaffanculo O era scemo Ecco Noi ero Ieri eravamo A Verucchio E mi sembrava Mia figlia C'erano questi qua Poi anche di una certa età A dire scemo Scemo A fare i gestaci Ma è una differenza Di cultura Io penso che voi Se ci fosse qua Stasera Uno che non vi sta simpatico Non sareste fuori A dire scemo Scemo Sareste a casa A guardare la televisione A leggere un libro A passare Il tempo In compagnia Quelli là Invece Scemo Scemo Ci sono anche qua Dove sono Posso andare ad abbracciarli dopo Mi fan tenere Ma pensa che vita a grama Pensa che vita a grama Che sono lì la mattina A guardare Dov'è Salvini Cazzo mi tocca ad andare là Dovevo stare con gli amici Devo andare a insultare Salvini Pensa che Che vita povera Che roba Che dramma Che dramma umano Fatevi la vostra vita E vabbè E' questo E' questo Quindi In bocca al lupo Conto Uno per uno Su ciascuno di voi Mi piacebbe conoscere Le storie di tutte Donne e uomini Perché siete qua Che lavoro c'è Che problemi ci sono Perché poi Bonaccini dice Funziona tutto al massimo Io sto trovando Una marea di gente Che mi dice Io quando vado in ospedale A chiedere una visita Mi chiedono Se hai soldi Ce l'hai in settimana Altrimenti ci rivediamo L'anno prossimo Non è normale Non è normale Nella ricca Emilia Nel 2020 E pensate Che i fenomeni del PD E su quello Lavoreremo Fin dal primo giorno Stanno lasciando A oggi Questi sono i numeri A stasera Più di 5.000 Case popolari In Emilia Romagna Vuote Perché non hanno trovato Il tempo I soldi Per sistemarle Pensate 5.000 famiglie Che invece Di impazzire Al freddo O non farcela Pagare il mutuo Avere una casa Della regione Che si sono pagate loro Perché le avete pagate voi Quelle case popolari Quindi il nostro obiettivo È andare in regione Sistemare quelle 5.000 case Poi però Se c'è la Lega Al governo Come nei altri posti Dove governiamo Prima Quelle 5.000 case Le assegniamo agli italiani E poi E poi Quel che avanza A chi arriva Ad una mattina Mi sembra Legittima difesa Perché Se uno Vive Fatica Contribuisce Alla crescita Della sua comunità Da 30 anni Può essere bianco Può essere nero Può essere di Parma O può arrivare Dall'Equador O da dove vuoi Se una persona Per bene Con i documenti In regola Che qua Da una vita Ha un diritto In più Rispetto a chi Arriva qua Domani mattina Col barchino Col barcone Mi sembra Mi sembra Logico Come ragionamento Non è un ragionamento Geniale Quindi Poi Prima di chiudere La campagna elettorale Perché contano Il lavoro Le tasse La burocrazia La burocrazia L'agricoltura Le infrastrutture Gli aeroporti Ma contano anche I simboli I valori E fra questi Ci sono coloro Che non si possono difendere Il 23 gennaio Ed è un giovedì pomeriggio Io la campagna in Emilia La chiudo in piazza A Bibiano Con le mamme Con i papà A cui sono stati portati via I bambini Con l'inganno Perché con i bimbi Non si scherza Con le famiglie Non si scherza Altro che raffreddore Errore Quindi Non Non ci annoieremo E intanto Domani Dopodomani Fra tre giorni Io conto che voi Siate dei seminatori Di cambiamento Di idee Di sorrisi Perché non posso A me piaceva essere in casa In casa di tutti Tanto mi capita Ieri ero in quella a Verucchio Poi Andiamo per tornare Alla macchina Andiamo a salutare Quelli della Proloco Che facevano La festa del maiale Finché non lo mettono fuori legge Perché non si sa mai Nella vita Qualcuno Ritiene anche Che i tortellini Vada mangiati Senza maiale La sa sta Però c'è un signore Che si affaccia al balcone Fa Salvini Vieni in casa A salutare mio papà Dico Va bene Siamo andati a salutare Anche lì Questo signore di 90 anni Un altro signore Che mi ha detto Io vengo da una famiglia di sinistra Ma sto giro La fiducia la do a voi Perché sono stufo Di quelli là E quindi Casa per casa Negozio per negozio Farmacia per farmacia E poi E chiudo Veramente Mi piacerebbe Che voi foste consapevoli Magari voi che vivete qua A Borgo In montagna A Parma In Emilia Non ve ne rendete conto Ma c'è Mezza Italia Che vi invidia C'è tutta Italia Che vorrebbe andare a votare E invece Loro sono democratici E noi siamo I dittatori E i fascisti E noi siamo Dei dittatori strani Perché noi siamo Dei dittatori Che vorrebbero far votare Il popolo Loro sono democratici Ma non vogliono Far votare il popolo Vedete come con le parole Si possa cambiare La realtà Perché Se va come penso io In Emilia Romagna In Calabria Se si vince In Emilia Romagna In Calabria Anzitutto È una buona notizia Per voi Per i vostri ospedali Per il vostro lavoro E per il vostro futuro Però io Il giorno dopo Vado da Conte Renzi E Di Maio E gli dico Bye bye Amico mio Andate a casa Anche voi È finita È finita Quindi Me la voglio togliere Questa soddisfazione Me la date o no Questa soddisfazione Quindi In bocca al lupo Viva Borgo Valditaro Viva la provincia di Parma Viva la sana gente di montagna E viva l'Emilia Romagna Grazie di cuore Grazie 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 di cuore A tutti voi Una sala così È straordinaria Qualcuno Prima di andare a casa A vedere la Juve Vuole fare una foto? Se aspettate Fra poco Arrivano qua Renzi Pizzarotti E Bonacini E le fate con loro Però Visto che siamo persone per bene Andate a portare un bicchiere di vin brulee Un abbraccio Un sorriso Ai dieci sfigati fuori Dai Dai che se no si sentono soli Grazie di cuore Viva la Lega E grazie per quello che farete Per chi vuole fare una foto Si entra dalla mia destra Perché non mi venda dir sinistra Di là Di là Musica Con calma Si entra a spire